È stata l'occasione per fare il punto sulle opere di edilizia sanitaria sulle quali la Regione Marche sta riversando i fondi del PNRR, ma è stata pure l'occasione per rispedire al mittente dell'opposizione di centro-sinistra le tante critiche ad una sanità etichettata come dimenticata sul territorio di Pesaro Urbino. Critiche strumentalizzate secondo l'assessore regionale all'edilizia Stefano Guzzi, ospite del confronto con le delegazioni di Forza Italia provinciali, riunite sabato nella sala del Consiglio Comunale di Pesaro. Sono stato molto stuzzicato dai continui interventi di alcuni consiglieri regionali del PD di questa provincia e di questa città, che continuamente mettono in discussione l'operato che l'amministratore regionale fa. È chiaro, il ruolo dell'opposizione ci sta, ma continuano a dire che non si è fatto nulla sul fatto del San Benedetto qui a Pesaro, continuano a dire che non si è fatto nulla solo politica sanitaria, addirittura parlano di privatizzazione della sanità perché sono stati immessi nei nostri ospedali alcuni medici di cooperative per poter garantire la turnazione e il funzionamento dei nostri ospedali. Allora, noi non possiamo far passare il fatto che coloro che non hanno fatto quel che avrebbero dovuto quando governavano, oggi sono qui a dare i voti e a dire che gli altri non fanno nulla. Noi finalmente siamo arrivati a dire che a Pesaro ci sarà un nuovo ospedale e abbiamo stanziato già 150 milioni di euro per realizzarlo. Loro hanno chiuso gli ospedali in questa provincia e hanno quasi svuotato l'ospedale di Fano, noi oggi rimettiamo 16 milioni sull'ospedale di Fano e ne mettiamo anche 5,5 per l'ospedaletto per un ospedale pediatrico che era chiuso da 25 anni. Su Urbino mettiamo 10 milioni di euro per una nuova paralzina per l'emergenza di fianco l'attuale ospedale. Sul San Benedetto loro non ne hanno parlato mai ed il Presidente della Regione fino a un anno e mezzo fa era di questa provincia ed era di questa città. Abbiamo portato avanti l'iniziativa, abbiamo messo in condizione il Comune di Pesaro con un accordo che io ho proposto al Sindaco Ricci di poter usufruire il Comune di Pesaro di 15 milioni di euro per la ristrutturazione parziale del San Benedetto e sul resto interverremo noi come Regione con un milione che è già pronto per la progettazione complessiva. Siccome è una cosa importantissima per il centro città non possiamo improvvisare un qualsiasi progetto, dobbiamo fare un progetto all'altezza di quello che Pesaro città merita dove il centro storico deve essere ricondotto anche con all'interno un San Benedetto completamente ristrutturato, fruibile, con i giardini interni fruibili per i cittadini. Non è semplice fare una progettazione di questo genere. Quando ci dicono non avete messo i soldi del PNRR, i soldi del PNRR devono essere rendicontati entro il 2026, se lì non c'è neanche un progetto perché nessuno finora l'ha mai fatto, noi non possiamo ammettere gli soldi che poi sappiamo di non riuscire a rendicontare entro il 2026. Saranno fondi successivi che arriveranno. Dichiarazioni che Aguzzi ha rivolto in occasione di un tavolo di confronto alla presenza della rappresentante di Forza Italia di Urbino, Laura Scalbi, di quello di Fano, Mauro Falcioni e del pesarese Michele Redaelli, padrone di casa nell'occasione. Tematiche che non si affrontavano da 20 anni, 30 anni e che con questa giunta regionale abbiamo iniziato ad affrontare. Il San Benedetto, la prima e la seconda è quella della sanità. Col PNRR e con i fondi della regione mettiamo in campo una sanità nuova, rinnovata, territoriale con anche importanti investimenti su Pesaro. Idem vale per il tema del San Benedetto. Fra le accuse che poi Aguzzi ha replicato ai consiglieri Biancagni e Vitri, anche quella al presunto abbandono all'ospedale di Sasso Corvaro. Noi oggi, oggi, per Sasso Corvaro non possiamo ammettere nulla per il semplice motivo che quello è in mano a un privato dato dalla vecchia amministrazione Cerisoli e non si può investire su un ospedale che è dato e ad appaltato a un privato, perlomeno finché non termine la convenzione. Allora, la smettano di avere quest'ansia da prestazione di chi gli manca il governo e quindi non si sono ancora adattati a quella che la democrazia chiama opposizione.